Ciao a tutti, io sono Liania e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi vorrei fare un video dove elencherò tutti i libri che vorrei ricevere a Natale e sono quasi tutti libri di ultima uscita, quindi tutti recentissimi, almeno in Italia sono usciti di recente, tranne un paio, diciamo, ecco. Allora, iniziamo subito ovviamente con Nevernight alboscura, ma questo credo sia ovviamente esplicito e l'ho detto già tipo un miliardo di volte, quindi non soffermiamoci troppo su Nevernight e andiamo avanti. Allora, il primo, l'unico a tema natalizio è Lettera per Babbo Natale di Tolkien. mi manca e vorrei leggerlo tantissimo, è piccolino, quindi va benissimo per me che devo studiare, va bene, e ripeto, è l'unico a tema natalizio, però alla fine ci sta, ci sta come lettura di Natale, ecco, perché tanto lo leggerò sicuramente poco dopo Natale, ecco, quindi diciamo dal 26, così, anche solo il 26 perché è piccolino, o 26-27 comunque appena dopo Natale. Poi abbiamo una trilogia di Phil Pullman, ossia queste oscure materie. Questa oscure materie è la trilogia di, appunto, ripeto, Phil Pullman, che l'ha appunto da tantissimo, forse un anno, e non ho mai avuto l'occasione di comprare e di leggere neanche le book, perché io non ho la possibilità di comprare le book. Quindi, forse, non lo so, se qualcuno mi chiederà cosa vuoi per Natale, tanto ovviamente i miei parenti già sanno che in realtà la domanda giusta per me è quale libro vuoi per Natale, cioè questa ovviamente è la domanda standard che mi fanno i parenti, quindi credo che mi spalmerò questi libri ai miei parenti, tranne la nonna che già mi ha detto che mi dà 100 euro, che quella è pazza, non lo so, ha detto do 100 euro ogni nipote, ma tu hai 5 nipoti, spendere 500 euro, è cociuta mia nonna che è venuta di fare Scorpione, e così si è pesa di zitti e prendeci 100 euro, piuttosto che 50. Però andiamo avanti, questo libro recentissimissimissimo, uscito da una settimana in base a come sto registrando questo video da comunque 10 giorni, è il primo rato dell'albero delle arance, cioè io l'ho visto in libreria due giorni fa, e tipo ok lo prendo, lo compro, cioè senza neanche guardare il resto, però come vado a vedere il prezzo è 26 euro, cioè tipo... cosa? What? 26 euro? Io non li avevo 26 euro dietro, quindi l'ho dovuto mettere a posto, e tipo ok, e poi ho scadato un pochino con il manovere di Neverland e di Solis, ho detto sì, volevo prenderlo, però 26 euro, cioè tipo no, e ovviamente lui mi ha detto non ti preoccupare che i soldi li valgono, li valgono tutto quel libro, quindi ho deciso che magari mi faccia regalare per Natale, qualche altro parente che mi chiede quale libro voglio, quello. Poi comprato su internet in realtà costa anche un pochino di meno, quindi io dico guarda comprato su Amazon, che se no costa 26 euro, su Amazon costa tipo 22, per sparare un pochino, vabbè. Poi abbiamo anche questi due libri usciti di recente, Sedi Corvi e Il Regno Corrotto, i due libri di Leigh Bardugo, anche questi di punto da una vita praticamente, anzi inizialmente li volevo leggere in inglese, poi ho visto che hanno tradotto Sedi Corvi e poi anche Il Regno Corrotto, allora dico bravi, perché io non sono molto ferra nella lettura in inglese, ho appena iniziato a leggere in inglese, quindi con calma, non andiamo di fretta e quindi Sedi Corvi e Il Regno Corrotto saranno anche tra i miei regali di Natale sicuramente. Poi per ultimo abbiamo La Memoria di Babel di Christelle D'Aboe, che è il terzo della quattrologia in realtà di Christelle D'Aboe, probabilmente, sicuramente uscirà anche il quarto e ultimo volume di questa serie, l'anno prossimo però, perché in contemporanea dell'uscita del terzo d'Italia è uscito anche il quarto in francese, in Francia, quindi probabilmente l'anno prossimo ci sarà anche il quarto, sì, non lo comprerò mai in francese perché io e il francese siamo nemici per la pelle, e niente, questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali libri volete ricevere per Natale, o quali avete già ricevuto perché qua non si sa mai, e niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere il nostro altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!